Come c'è scritto, non parte per la parola, perché non avremo mai niente in comune. Qualcuno ci deve dare una mano, troppo silenzio c'è stato fino adesso qua, in questa città. E passiamo proprio anche dal Duomo, ma non perché ce l'abbiamo con qualcuno, perché di solito la chiesa dovrebbe stare vicino alle persone più deboli e non difendere i più potenti. Partiamo da qui come questo. E adesso andiamo in pala dell'Arezzo. Forza! Alla prossima Alla prossima